Siamo un'organizzazione WeWorld che da tanti anni lavora per garantire la salvaguardia dei diritti a donne e bambine, quindi il diritto all'istruzione, il diritto alla salute, all'accesso all'acqua, il diritto alla scuola. Quindi noi cerchiamo e attraverso questo indice lo scriviamo anche di sottolineare quanto sia importante, anche in un paese come il nostro, continuare ad investire su delle politiche che possono migliorare e aiutare a raggiungere quelli che sono poi gli obiettivi dell'agenda 2030 sulla parità di genere e su un accesso alla scuola, su un accesso all'educazione di qualità. Grazie a questo report noi abbiamo una visione chiara della situazione in Campania, di tutte le problematiche e di come è possibile affrontare il problema cercando di migliorare sempre di più la nostra regione. Il rapporto WeWorld è un rapporto molto significativo, molto importante perché ci ha dato la misura di alcuni elementi di fragilità sui quali noi dobbiamo intervenire, in particolare mi hanno molto colpito i dati rispetto ai servizi per l'infanzia rispetto ai quali siamo ancora molto carenti e l'investimento in cultura e quindi questi sono dei temi sui quali dobbiamo necessariamente lavorare insieme all'assessorato con le politiche sociali.